Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Una cosa è certa tra le tante. Non so quale sia la reale origine del virus, né so se ancora sia possibile sollevare il dubbio nella società che ha liquidato il dubbio stesso come fake news e i dubbiosi come complottisti. So tuttavia che il virus ha privatizzato le esistenze, ha cioè dissolto quella dimensione pubblica del mondo della vita che figurava tratti come un'esistenza superstite nel regno del privato e del concorrenziale. Parchi e spazi pubblici, spiagge e chiese erano a rigore una sopravvivenza del comune e del pubblico che non solo mal si conciliava con la logica iperprivatistica del regno dei mercanti, ma che addirittura poteva figurare come luogo della sua eventuale contestazione. E ora invece ci troviamo a vivere il tempo dell'esistenza privatizzata. Ciascuno è trincerato per legge nella propria dimora. L'ho già sottolineato, il paradosso irresistibilmente grottesco della open society, che si realizza nell'atomistica delle solitudini chiuse per legge in casa. Chissà per quanto, poi, si assiste a tal riguardo a una duplice tendenza. Da un lato ve il discorso del virologo, che con la mistica del picco evoca la fine del pericolo, però sempre differendola, e ci pone tutti in fondo nella nota posizione dell'asino che insegue la carota. Dall'altro lato ve poi il discorso del giornalista, che alla mistica del picco tende spesso ad aggiungere un particolare, il rischio di un'emergenza infinita e di un impossibile ritorno alla normalità. Non torneremo più alla normalità, così diceva il Fatto Quotidiano, 20 marzo. Alcune cose non torneranno mai più, Corriere della Sera, 21 marzo. La vita dopo l'emergenza virus non sarà quella di prima, La Repubblica, 31 marzo. Difficile in questo caso distinguere tra descrizione e prescrizione. Tra sanità e politica, tra lotta al virus e lotta di classe. L'emergenza coronavirus c'è e non va trascurata, sempre bisogna elogiare medici e infermieri. Ma v'è anche un altro rischio e anch'esso non dovrebbe essere trascurato. È il rischio, cioè che la lotta al coronavirus diventi anche presto o tardi l'alibi per l'instaurazione di un nuovo ordine terapeutico globalista, come l'ha chiamato Paolo Borgognone, che in nome dell'emergenza virus trasformata in emergenza permanente, riplasmi poi i rapporti sociali del liberismo in chiave nuova e, sa va san dir, tutta vantaggio del già avvantaggiatissimo polo dominante. Il distanziamento sociale, che ora è necessario, potrebbe diventare in futuro un nuovo ed efficacissimo metodo di governo. Non vi sarebbero più scioperi e manifestazioni, assembramenti e spazi di pubblico dibattito. Ciascuno, come un monaco postmoderno, sarebbe sine die costretto nella sua cella casalinga, in una sorta di clausura epidemiologica coatta e postmoderna. In nome della sopravvivenza, il nuovo docile suddito dello stato terapeutico globalizzato potrà rinunziare a tutto, dalle libertà all'indocilità ragionata della protesta. E il potere potrà riprodursi in contrastato, senza opposizione politica e sociale. Ne scaturirebbe una sorta di società neofeudale iperclassista all'ennesima potenza, in cui la upper class del patriziato cosmopolitico vive la quarantena permanente nelle sue sontuose fortezze con giardino e piscina. E giù in basso, la moltitudine, il gregge e le nuove plebi, sopravvivono a malapena, nei loro monolocali periferici e magari senza balcone. Scenari futuri e solo immaginari, di cui eventualmente ci si occuperà emergenza finita, diranno alcuni. Già, ma non si dimentichi che se l'ipotesi è plausibile, non vi sarà mai una fine dell'emergenza. E soprattutto non si obblima il fatto che il capitalismo è sempre più rapido di noi nel riorganizzarsi e nel mutare ogni imprevisto, ogni errore, ogni casualità, in cemento che lo rafforza e lo rende più solido.